Esposto in procura di un centinaio di soci prestatori delle cooperative operaie denunciano manager e politici per associazione a delinquere. Nel mirino dell'iniziativa presentata materialmente dall'avvocato Stefano Alunni Barbarossa, il presidente del CDA Livio Marchetti, Augusto Seghene, finiti entrambi sotto inchiesta per bancarotta, il presidente del collegio sindacale Pierpaolo della Valle, ma anche i politici da Roberto Molinaro, ex assessore regionale alla cooperazione, e Sergio Bolzonello, attuale vicepresidente regionale, e poi il revisore straordinario della regione Lorella Torchio, i responsabili delle società di revisione contabile e gli organi di vigilanza delle due centrali cooperative nazionali. L'elenco è lungo, il centinaio di soci che hanno aderito all'esposto presentato da Alunni Barbarossa ritengono queste persone presunte corresponsabili del caso COP, che ha portato alla probabile impossibilità di una totale restituzione dei soldi depositati nei libretti sociali. Come noto infatti il commissario Maurizio Consoli ha assicurato un rimborso di più dell'80%, ma non integrale. Intanto, dopo i primi soldi pari al 30% del totale già ottenuti dai soci da Banca Generali nelle scorse settimane, una nuova tranche è stata annunciata entro il prossimo mese di settembre.